Ciao ragazzacci, io sono M3125 e oggi siamo qui su Farmer Dynasty Farmer Dynasty, non c'è nessun numero Allora, prendiamo il carrello pieno di piselli Andiamo prima al negoziante Il carrello me lo porto dietro così ci sono già a posto, sono Prima andiamo al negoziante Fammi attaccare, vai un po' indietro Qui devo trovare una soluzione Io spero ci sia poi una soluzione tipo per i parcheggi Perché si capisce niente, non si capisce Li posso lasciare anche all'aria aperta Perché tanto, chi se ne frega, sono tutti arruginiti Qualcuno mi dice sempre, e continua a scrivermelo Di smerigliare le cose, ragazzi non posso smerigliare Ve lo faccio rivedere, ve lo faccio vedere ogni volta Ve lo faccio vedere, non posso smerigliare praticamente niente Vedete qua non c'è un qualcosa di rosso che mi dice Deve essere smerigliato, quindi non potete smerigliare Io vado un attimo dal negoziante e vediamo le zucche Ok, diamogli le zucche al commerciante, signor commerciante Sì sì, puoi aiutarmi, ti devo vendere delle cose Quindi vendiamogli tutte le zucche Ricordatevi sempre di fare, com'è che me le paga così poco 4 euro e 800 Io pensavo di fare 5.000 euro dalle zucche Che caspita io ho venduto un'altra volta che me le ha pagato un sacco Mi ha abbassato il prezzo, no 4 euro era Vendi, ok ho fatto pochissimo, ho fatto porca miseria Speravo di fare di più Vendi anche il latte e vendiamogli un 40 euro di 100 uova Tanto io ce l'ho un sacco di uova Vendiamo queste uova, abbiamo 16.000 euro Ragazzi se da questo carretto qui, fammi vedere Io spero che da questo carretto io possa Lupino, no, pisello, 990 euro tonnellata Io ne ho 4 e sono 4.000 euro Ragazzi c'è il camion Andiamo un attimo, fatemi saltare sotto sto viaggetto qui con il trattorino Salve, preparati i soldi, preparati i soldi Sono pronto Dai, dai, facciamo sta curvetta Ragazzi siamo arrivati E ci prendiamo tutti i soldini che ci danno Io spero di arrivare a 20.000 e andiamo subito Se siamo a 20.000 io vado subito a comprare il camioncino Eh, lo dico già adesso Se siamo a 20.000 Ok Solleva il rimorchio Dimmi che è 20.000, ti prego Non sta salendo come dovrebbe, eh? Non sta salendo bene No, dimmi che devo ancora lavorare Eeeh, caspita C'è, 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 c'è tutto Andiamo, andiamo a comprarci il camion, va Andiamo a comprarci il camion Perché quello è qui vicino 300 metri, vi faccio in un secondo, vi faccio Intanto che arrivo lì, qualcuno potrebbe pensare che sarebbe meglio comprare il trattore Ragazzi, il trattore è utilissimo Eeeh, togliendo questo Cioè, questo trattore qui non cammina neanche a pagarlo E' utilissimo il trattore Io non dico mica di no Ma mi costa 50.000 E io 50.000 quando ci arrivo? Mai nella vita ci arrivo Cioè, non ci arriverò mai Invece col camion che dovrebbe essere un Iveco, eh Mi sembra un Ivechino Eh, potrei, potrei anche farcela col camion Magari mi dà qualche missione in più Perché questo qui, l'Indner, mi costa 52.000 Io non ce li ho, 52.000 Dove li prendo? Mica vado a rubare 20.000 e 40 punti social Vai Ullala E' appena comprato il pick-up HDS Ma che cosa posso fare questo pick-up? Cambia fotocamera Non posso fare niente, non posso fare Uchi Eeeh Mi perdoni Ma io che ci faccio questo pick-up? Non ci faccio niente veramente? Eeeh Vorrei andare a vedere qui cosa c'è Vediamo, intanto andiamo verso lì Vediamo quanto cammina Allora, già che mi fa più di 40 all'ora Mi va più che bene Uuuuh Finalmente un mezzo per andare avanti e indietro Finalmente un mezzo per andare Belli veloci, eh Perché non ce la facevo più Vediamo che vuole mia Mia Eh, magari vuole che costruisca qualcosa Mia Aspetta, cosa sta parla? Dai La vanga qui Vai, parla con me, via Che vuoi? Eeeh Cosa posso aiutarti? No, 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 non ti arro un bel niente Non ti arro Non rompe le scato E allora sto camion qui che ci posso fare? Perdonatemi Io c'ho un camion Al 99% Che mi permette anche di essere L'interno è bruttissimo L'interno deve essere assolutamente migliorato Si alza Almeno si alzano le stecchettine Dai Almeno questo Uh Scusi mia L'ho investita Ma quindi che ci faccio questo camion? Cioè non ci posso fare niente Non ci posso fare Ok posso andare 30 km all'ora? Non posso neanche collegarci Allora vediamo quant'è La velocità massima è 90 E già questa qui è una cosa che mi piace Ma non ci posso fare niente Cioè lo porto a casa E lo posso posare lì? È pieno di materiali ma Aspetta, 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 aspetta Se io scendo di qua Per accogliere mattoni In tonaca Lucido per legno Eh Tetto Mattoni forati No, tetto in ceramica O si deve spargere la voce in città Perché Io adesso ho lo strumento ideale Per fare tipo Delle cose fantastiche Uh Tanto guardate quanto va Che figata Finalmente Se potevo collegarci Il rimorchio A questo camion Sarebbe stato Uh scusi Sarebbe stato il mezzo ideale Io ho detto che si possono Upgradare Si possono upgradeare le cose Quindi Ci deve essere un sistema Per upgradeare le casette Queste cose qua Andiamo Andiamo ben veloci Perché Uh che figata Finalmente Per muovermi in città C'ho il mezzo ideale Ok Stai attento Stai attento Perché Blocchiamo da qualche parte Casa mia dove Non è da questa parte Ormai la mappa Sto iniziando a capirla un po' Allora andiamo di qua Io voglio vedere Se posso upgradeare È casa mia questa E questa è casa mia Voglio vedere Se posso upgradeare Intanto scendo dalla strada Che non si può scendere Voglio vedere Se posso fare qualcosa Tipo se mi avvicino Mi dà la possibilità di Eh Non mi dà la possibilità Di fare niente Ragazzi Ho comprato Ho comprato Il nulla Puoi conservare Solo una specie di chicchi Smaltimento Silos Eh Non posso comprare Il nulla Posso fare niente Non posso fare La stalla La stalla La posso Avividare Se io prendo Fammi vedere Se io prendo Del Raccogli mattoni Ok Mucche Animali E fieno Ragazzi Non posso fare niente Ricostruire vecchi mattoni Fammi vedere Questo qui che fa Ah Li ricambio Ma alla fine Non è che mi cambia la vita Cioè Ricostruisco Le faccio più belline Ma Ok È più nuovo È tutto più bellino Però Non è che proprio Mi cambia la vita Posso andare a riparare Le cose Posso andare a riparare Quindi Posso rifare la casa Potrei rifare Tutta la casa nuova Ragazzi Se rifaccio una casa nuova Invece che Ste catapecchie Che c'avevo Il nonno Secondo me È contento Anche perché Io mi scoccio A stare sempre Sul terreno Rifacciamo le case Ragazzi Rifacciamo qui Le casette Ok Rimettiamoci i mattoni Buoni A meno che Non mi cambia Magari mi potrebbe cambiare Che ne so La quantità di mucche Che posso ottenere Mi dice Guarda Adesso che hai rifatto La casetta Tu puoi avere 9 mucche Puoi avere Invece che 9 mucche Ne puoi avere 12 Hai fame Sì 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 Non ti preoccupare Ma mangio Fammi mangiare un attimo Un paninino Non c'ho paninini Mangio un uovo Mangiamo 3-4 uova Ok Ho mangiato 5-6 uova Il colesterolo Al 1000 Però non vi preoccupate Sono uova naturali Non fanno venire il colesterolo Cioè non è vero Fanno venire il colesterolo Però Non è importante Non mi importa Finiamo qui Io ho ricostruito tutto Cioè io questa cosa qui Non la so ragazzi La sto scoprendo insieme a voi A cosa servirà Quel cavolo di mezzo Non è possibile Che mi abbia dato Un mezzo inutile Ok Sempre 9 Per me non è cambiato niente Prendiamo le tavole Prendiamo le tavoline Ok Lasciamo qui I mattoni Raccogliere i giottoli Dove stanno le tavoline? Tavole 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 Questo cos'è? Tetto in ceramica Tetto in metallo Sono tetti Ah le tavole sono qui Raccogliere le tavole di legno Ok Dammi le tavole di legno Posso far qualcosa qui Tavole 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 Penso di poterli fare Questa qui Ok Rifacciamo la porta nuova Così Tutto allo stesso colore Che non si capiva niente Rifacciamo le porte E poi saliamo sul tetto Penso di dover salire sul tetto Il tetto Non mi ricordo Come è oggi puntata Dove ristrutturiamo Tutta la nostra casetta Quindi ricostruire E ricostruire Ma io se faccio ricostruire Qui il muro Non me la fai ricostruire Ho scordato il muro Mi sono scordato Porca miseria Quindi Mettiamo le tavole nuove Così è tutto più bellino Ok Poi dovrò farmi un bel po' Di cose Mi ridai i mattoni di prima Che li ho persi Favete vedere Qui in mezzo c'è qualcosa Ok Non posso salire però Non vedo niente Andiamo a ricostruire anche l'interno Che mi sono scordato Mi sono scordato anche la porta Ricostruiamo i mattoni vecchi Figo Figo Adesso la faccio diventare La casetta di prima categoria La faccio diventare Tutta bella norma Qui non mi serve Rifacciamo questa norma Ok Adesso è tutta norma Vero? Qui al primo piano Abbiamo finito Signore Signore mucche Smettetela di far rumore Fanno un rumore assurdo Fanno Ridammi quelle tavolette Che avevo prima Dove che sono? Ridammi le tavole di legno Poi devo salire sopra E sopra c'è Il modo Sì c'è c'è Questo ricostruisci Ah posso ricostruire Tutta la stalla Io voglio capire Alla fine Mi serve questa cosa È solo una cosa estetica Perché se è solo una cosa estetica Sto perdendo un sacco di tempo Perché Forse ho fatto l'acquisto Sbagliato Io spero che Poi mi serva Veramente a qualcosa Questa cosa Io voglio farla insieme a voi Per farvi vedere Quello che c'è da fare Quello che si può fare Si può modernizzare La struttura Quindi Ricostruiamo Vecchie tavole di legno Con tavole di legno nuove Facciamo tutto il tetto Io spero Mi faccia mettere tipo Con nove mucche Non faccio tant'i soldi Ma se io avessi Cinquantina di mucche Ogni giorno Mi fanno un sacco di latte I soldi vengono Iniziano ad arrivare Ricostruiamo questo Ok Che poi non ho capito Se i materiali Poi devo andare a ricomprare Ok Costruiamo tutto Secondo me ha fregato Ragazzi Lo dico già adesso E con me ha fregato Male proprio Mi ha fregato di brutto Mi ha fregato Perché Cioè Sono un po' demoralizzato Non so se riuscite a vedere Questo Riuscite a sentirlo Che sono demoralizzato Ci sono rimasto male Io speravo di avere Ok Perfetto Finiamo qui la struttura Così Almeno non c'è Non c'è quella ruggine Che mi dà fastidio Tutte le cose ruggineite C'ho Il camion Posso ricostruire Il trattore voglio dire Io vado al trattore pure Non so qual è il mezzo Per ricostruire il trattore Intanto c'ho delle scale Finalmente che non cadono Fatemi finire anche questo Ricostruiamo tutto Qui sopra com'è che Devo ricostruire Ricostruire con vecchie tavole Vai vai ricostruisci Il tetto non so di che cosa è fatto Non me lo ricordo Devo andare con Mi conviene andare direttamente Con il Con il ponteggio Quindi ricostruiamo qui Ok Eh questo mi sta un po' fregando Ci sono rimasto malissimo Speravo che il camion Tipo mi chiamasse il sindaco Rifai la piazza cittadina Sarebbe stata una bellissima missione Oppure Cioè a meno che fosse utile Cioè svuotavo tutto E lo potevo usare come rimorchio Quindi potevo metterci dentro Tutte le cose da vendere Invece non posso farci proprio niente Io mo' devo finire assolutamente Di fare sta cosa Cioè ormai più forte di me Finchè non risolvo Sono veramente fregato E ormai non so È una questione morale Cioè ho fatto l'acquisto Sbagliato del secolo Ho speso 20.000 euro Per il nulla Che la cosa mi fa veramente arrabbiare adesso Mettiamo anche questo a posto Sì ovviamente prende Prende senso Perché in questo modo è più bellino Però porca di quella miseria Cioè così è solo una questione estetica Ti prego non me lo dire Perché ci sto rimanendo male ragazzi Mi sono impegnato Ho lavorato notte e giorno E non so niente Non mi è rimasto niente in mano Cioè ci sono rimasto malissimo Voi non potete immaginare come ci sono rimasto male Ero tanto tantento Sì perché se ci fosse una missione speciale Ci sarebbe l'omino che vuole parlare con me Invece missioni speciali non ce ne stanno Finiamo qui il tetto Ok Perfetto finiamo questo Ok solo il tetto mi manca Andiamo sul tetto Mettiamo il ponteggio È rimasto male Rimasto male proprio Ok Nove mucche Sempre nove mucche è rimasto Allora no aspetta c'è quel pezzo lì Mi stavo dimenticando il pezzo laterale Ok Perfetto Ok qui è a posto Devo solo andare sopra Andiamo sopra Vai 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 Metti l'ultimo Bellino è più bellino Perché comunque non c'è più quella ruggine Non c'è tutto quel materiale marcio Che fa schifo Quindi qua è perfetto Non è vero Mi scordo sempre qualcosa Mi scordo Ma chi è che non vedo Così Mettiamo qua Di qua è a posto Saliamo su Saliamo su Saliamo col ponteggio Vediamo che materiale c'era Devo anche riconoscere i materiali adesso Allora dammi F3 Dov'è che era il ponteggio per salire E questo Quindi mettiamolo qui E mi permette di andare su Ok No Che cos'è sto schifo Scusa non avevo sistemato questi Il cornicione resta così brutto Secondo voi Dammi di nuovo i mattoni Gentilmente Quali sono questi Mattoni No Quelli Invece si Eh C'è da ricostruire anche i vecchi mattoni Eh ma qui ci vuole tre quarti d'ora Ci vuole Perché non si vedono nemmeno Cosa devi fare Quindi facciamo anche i mattoni La ristrutturazione ve la faccio completa Questa è la prima ristrutturazione che vedrete Probabilmente non ne vedrete altre Quindi Gondetevela un po' Gondetevela Ok Qui c'è qualcosa No Cos'è che vuole questo Bloccato da un ponteggio Ma chi se ne frega Fammi ricostruire questo L'angolino L'angolino qui è ricostruito secondo voi Secondo me sì Ok Che cosa c'ho qui Maledetta recensione Chi ti ha messo Devo ricostruire anche le recensioni Devo ricostruire Eh ma c'è un sacco di cose da fare C'è allora Eh ma allora qui non finisco più Non finisco più di rimontare la casa Devo fare un episodio di ristrutturazione della casa Ristrutturazione della casa Del pollaio Vabbè che il pollaio ci mette poco È tutto coso È tutto legno Quindi questo è a posto Vai così Poi andiamo su E abbiamo finito Io spero che mi faccia un granaio bello E che venga il sindaco Tipo a dirmi Sei stato bravissimo Hai fatto la scostruzione più bella del mondo Io penso che potrebbe anche andare così Perché il sindaco passa di qua Vede che ho fatto una costruzione bellissima E mi dice Sai ho visto la costruzione tua È molto carina Vorrei affidarti ai lavoretti E quindi faccio un sacco di soldi come Come muratore Più che come farmer Puro Ok mettiamo qua Pure sempre un sacco a ricostruire le cose E già l'avevo ricostruito È quello che mi dà fastidio Quello che mi dà noia Allora andiamo sul tetto Che muro c'ho sul tetto Fai vedere che cosa Che cosa ci ho messo qui sopra Era un muro di materiale Ceramica Ceramica Io salto di qua salto Che me frega Tanto non mi faccio niente Ceramica 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 Tetto rosso in metallo Tetto in mattoni Ok Abbiamo questo Andiamo a metterlo sopra Adesso devo ritornare di sotto Tac No Porca miseria Quando andiamo a salire Cado Non c'è sicurezza Su questo coso Li mettiamo a posto Guarda che bello Guarda che bello Togliamo quel vecchiume che c'era E mettiamo qui Delle cosine fatte nuove Che peraltro non si mettono così Perché le tegole Non si mettono con lo sparachiodi Le tette si possono mettere in diversi modi Un metodo che conosco io È legandole alla travele sotto Però non le ho mai viste mettere con i chiodi le tegole A meno che non sia una di quelle coperture finte Di quelle là tipo bituminose Di quale devo mettere Ah devo mettere anche dall'altra parte Porca miseria Ok Tac Ci vorrà una vita ricostruire tutto Io adesso voglio andare a provare il trattore Se lo posso rimettere a nuovo Le posso rimettere a nuovo il trattore Tipo ripingerlo Io lì c'ho anche degli altri materiali Ma come ci arrivo quelli là centrali E vai così Questa qui è tutta remessa a nuovo È a posto Vediamo se mi dà un Una missione completata Tipo Sarebbe bellissimo Se mi desse Io voglio che il sindaco Perché non c'è il sindaco Il sindachi che mi chiama Mi dice Sai dobbiamo preparare l'albero per il Natale No Dobbiamo fare una costruzione Non mi chiama nessuno Non mi chiama Qui è l'ultima dai No le ultime due E ho finito Ho finito questa ricostruzione È stata anche difficile È stata bella lunga Vai così Ok Ok ci siamo ci siamo Questa è ricostruita Eh no Non è ricostruita invece Che caspita ti manca Vista da ingegnere Io ho ricostruito tutto Ho ricostruito eh Ciccio Non mi ha dato niente Non mi ha dato Nove mucchie Non mi ha dato niente Ho ricostruito tutto Ma Allora è solo una questione estetica Allora me Oh caspita mi ha fatto paura Allora è solo una questione estetica Cioè alla fine non mi cambia niente a me Prendiamo le tavolette di legno Vediamo se posso cambiargli la casetta a loro Le tavolette Le tavolette dove stanno Stanno qui Le tavole di legno Posso cambiarvi la casetta Vi faccio una casetta nuova No E allora ho perso un sacco di tempo ragazzi Ah no dovevo finire questa porta Eh ho perso un sacco di tempo lo stesso Non era quella porta Ah no devo fare anche questa Si vede niente Non si vede Segnalamolo in qualche modo Ho perso un sacco di tempo Ma porca miseria Ma veramente Me lo stai dicendo Che ho perso del tempo Dei soldi Tutto quello che Che C'ho i mattoncini Forse devo cambiare anche il pavimento Allora questo cos'è Mattoni forati Sto prendendo la voce anche No non posso fare niente No ma dai veramente Sono rimasto male Ci sono rimasto Forse devo fare qui sotto No Sembra a posto Che c'ho del Tonaco cementizio Eh ma devo rifare il centomila Ah ma posso solo costruire così Non cambia niente È solo estetico allora Ma va a far un bagno allora Dammi i mattoni Questo era di mattoni Lo facciamo di mattoni E invece no Devo metterci anche l'intonaco Scusatemi ma Devo metterci anche l'intonaco Quanto ci vuole L'intonaco cementizio Vai Ricostruire i mattoni Con l'intonaco cementizio E io non so se devo rifarlo Perché io se poi Volessi rimettere i mattoni Come ho fatto prima Non me lo fa rimettere Devo ricostruire tutto Aspettate un attimo Che provo a ricostruire un attimo Cioè io ho rifatto tutto Ma qui non cambia niente ragazzi Eh però noi dobbiamo rifarlo Perché secondo me Può essere carino Raccogliere scartavetrare Scartavetrare Che è sto Lo scartavetrare Vediamo se posso fare il trattore Dove sta il mio trattore Vabbè andiamo sulla trebbia Andiamo la trebbia Se riesco a scartavetrare la trebbia Ragazzi è il massimo Se riuscissi a scartavetrare la trebbia Eh no No Non si può fare niente Peccato Peccato perché avere scartavetrato tutto Ragazzi Io non so perché ho comprato sto camion Io finisco questa puntata Noi ci vediamo nella prossima puntata Dove ristruttureremo tutta la nostra Fattoria O almeno quello che Che ne avanza Di fare la cosa La generata del mondo Tipo sbloccare nuovi contratti Nuove cose Invece non ho sbloccato un bel niente Io spero che questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Vi ricordo di lasciare un commento Mi piace Di iscrivervi al canale Se non siete iscritti Di condividere i video se potete E noi ci vediamo nei prossimi episodi Ciao